Musica Adesso siamo qui in piazza per parlare di mobilità sostenibile con il comune e i pedibus che gestiamo proprio per conto del comune. Domani avremo invece delle attività a Palazzo Rasponi dove presenteremo insieme all'Egambiente la legge dei decoreati e al pomeriggio una giornata di open a Chiracò quindi vi aspettiamo al parco dal 23.30 in poi con giochi, attività per bambini e momenti per stare insieme.